Patarini, Valdesi e Cata di Albigesi. Concludiamo il nostro discorso sulle eresie concentrandoci su quelle che si diffusero soprattutto dopo l'anno 1000. La volta scorsa vi ricordate che abbiamo fatto un ripasso anche delle eresie dell'alto medioevo, quindi ad esempio gli ariani, i monofisiti e tante altre eresie. Oggi parleremo soprattutto delle eresie del basso medioevo che sono nate per combattere la corruzione della Chiesa già la volta scorsa abbiamo parlato della simonia poi del concubinato dei preti chiamato anche nicolaismo per via proprio di un'altra specie di eresia che si era diffusa però parecchi secoli prima e che predicava il celibato dei sacerdoti. Le eresie dapprima furono accolte quasi con benvolenza benevolenza volevo dire anche da alcune gerarchie ecclesiastiche poi furono combattute sempre più ferocemente. Per sconfiggere si ricorsi anche a tribunali speciali nacque così l'inquisizione medievale anche se noi abbiamo già sottolineato parlandone che in fondo l'inquisizione, quella davvero più feroce e crudele nacque alla fine della storia medievale e all'inizio della storia moderna. Dobbiamo dire che dal punto di vista sociale sicuramente c'è un'ascesa della borghesia in questi secoli è nato un nuovo ceto di ricchi dal quale però sono escluse varie persone per esempio gli ebrei accusati di aver ucciso Cristo che però si possono dedicare all'usura quindi al prestito intendo dire perché questo tipo di attività è considerata un peccato per i cattolici e quindi gli ebrei si occupano di questa attività ma non sono solo gli ebrei vi assicuro a occuparsi di prestito o di usura anzi gli usurai, ne parla anche Dante insomma spesso sono molto di più o quasi esclusivamente cattolici. Poi ci sono i poveri medicanti che vivevano vicino alla città ma erano privi di diritti ecco infatti qui abbiamo una sorta di fenomeno di riurbanizzazione dopo alcuni secoli in cui le città si erano svuotate a favore invece delle campagne dove era andata la gente a lavorare e a cercare di vivere o sopravvivere sotto un regime essenzialmente feudale dopo l'anno 1000 si ripopolano le città ma non sono tutte rose fiori ecco perché ci sono comunque molte parti insomma della popolazione che vive ancora ai limiti della miseria in particolare i lebrosi la cui malattia era considerata una punizione divina erano esclusi dalla comunità sociale e quindi spesso relegati in zone appartate nel frattempo la chiesa continua ad arricchirsi con lasciti ereditari donazioni territoriali e decime a fronte di questo si sviluppa sempre di più un movimento pauperistico cioè un movimento di coloro che propugnano la povertà evangelica e questo sarà anche il leitmotiv delle eresie di cui parleremo oggi soprattutto dei patarini e dei valdesi ma anche dei catari l'unica differenza è che i catari si spingono oltre dal punto di vista di quelli che sono i dogmi i sacramenti della chiesa mentre in genere patarini e valdesi cercano quantomeno in un primo tempo di restare nell'alveo della chiesa concentrandosi proprio sulle tematiche della povertà evangelica e nel tentativo di ricondurre la chiesa appunto a quelli che erano i principi originari ma ripeto questa distinzione è un pochettino troppo schematica perché da un certo punto di vista poi anche i valdesi in modo particolare andranno a criticare quella che è la dottrina anche diciamo ortodossa e dall'altra parte anche i catari propugneranno cioè combatteranno per un ritorno ad una povertà assoluta i paoperisti ecco dobbiamo dire questo in realtà comunque nella chiesa cattolica pensate al voto della povertà non era stata del tutto dimenticata questa povertà evangelica tuttavia c'era il problema che spesso i conventi se magari i singoli monaci non erano ricchi comunque i conventi erano diventati sempre più ricchi grazie alle donazioni sempre più potenti si acquistavano le cariche religiose vi ricordate la simonia in generale il lusso della curia ad esempio della curia romana come abbiamo già spiegato prima di fronte a questo nascono movimenti di protesta come mai questi movimenti si sviluppano soprattutto dal dodicesimo secolo in poi cioè adesso vedremo i patarini che nascono nel secolo precedente cioè nell'undicesimo secolo ma la grande diffusione dei movimenti eretici si ebbe a partire dal dodicesimo secolo quindi dal 1100 beh sicuramente contribuì la crisi del feudalismo questo infatti aumentava le occasioni di movimento dal momento che invece nel regime strettamente feudale ecco uno era servo della gleba cioè era strettamente legato a quel terreno in cui viveva e lavorava e non si spostava invece adesso aumentano le possibilità di spostamento se pensate per esempio agli sviluppi dei commerci i nuovi mercati e le crociate agevolano lo scambio di idee è paradossale può sembrare paradossale perché stiamo parlando di guerre spesso di guerre sanguinose come abbiamo già visto e come vedremo quando riprenderemo il discorso sulle crociate a partire dalla quarta in poi ma in realtà le crociate rappresentano anche la possibilità di incontrare un altro un diverso una cultura nuova una cultura quasi sconosciuta che è quella orientale entrano così in Europa principi e tradizioni religiose anche di tipo orientale da queste nacquero ad esempio i catari adesso però approfondiremo il discorso nell'ultima parte del nostro incontro quando parleremo di quelle che sono le origini del movimento dei catari quale fu la reazione della chiesa come abbiamo spiegato prima all'inizio fu anche quasi quasi positiva la reazione della chiesa di fronte a questi movimenti per esempio il papa Gregorio VII il famoso papa del dictatus pape insomma della ripresa del potere della chiesa autonomo nei confronti dell'imperatore il famoso papa della scomunica dell'imperatore Enrico IV appoggiò i movimenti riformatori appunto in chiave antiimperiale anche i movimenti riformatori erano contrari alle ingerenze dell'impero negli affari della chiesa perché questi movimenti riformatori volevano appunto riaffermare la come dire la peculiarità proprio religiosa del cristianesimo a fronte di tutti gli aspetti ahimè molto molto presenti non solo nell'impero ma anche nella curia romana dicevamo del potere temporale ma la visione teocratica della chiesa non poteva accettare riforme egualitarie lontane dalla gestione del potere un po' piramidale che c'era nella chiesa la teocrazia infatti è un sistema politico in cui il potere è detenuto anzitutto dal papa direi in questo periodo in generale teocrazia vuol dire che i sacerdoti quelli che sono tra virgolette i ministri di dio acquistano un potere anche temporale e poi come vi stavo dicendo c'era una gerarchia ecclesiastica molto strutturata e quindi questo non poteva permettere ad esempio un eccessivo egualitarismo o un' autonomia da parte che ne so del basso clero piuttosto che delle classi sociali più umili cominciano così le persecuzioni ecco il primo movimento pauperistico di cui parleremo oggi è quello dei patari i patari il mercato degli stracci la pataria i patari gli straccioni questo era più o meno il senso della parola all'epoca appunto a Milano quando si sviluppò dopo la metà del mille quindi dell'undicesimo secolo si sviluppò questo movimento pauperistico poi abbiamo detto il secolo dopo molti movimenti tra i quali almeno almeno dobbiamo ricordare appunto come ho detto anche nel titolo i valdesi e i catari quindi attenzione i catari in realtà non come dice questa slide che abbiamo preso un po' dalla rete non dal 1200 ma erano già presenti anche prima decisamente perché sono quei movimenti dicevamo che nascono nel dodicesimo secolo sia quello dei valdesi sia quello dei catari poi avremo dei movimenti apostolici ad esempio quello di Fradolcino e non solo che però si svilupperanno soprattutto un secolo dopo circa ecco attenzione come vedremo adesso in questa cartina questi movimenti per quanto riguarda quello dei patari diciamo che poi si fermano nella regione di Milano e nella zona appunto intorno a Milano al contrario invece il movimento dei valdesi parte da Lione anzi all'inizio si potevano chiamare ed erano chiamati proprio così poveri di Lione non si chiamavano non si auto chiamavano valdesi solo secoli e secoli dopo assumeranno questo nome ma si diffusero parecchio quindi a partire da Lione poi in tantissime altre zone non solo della Francia meridionale ma anche dell'Italia e la stesa cosa se vogliamo ancora di più avvenne ai catari che si diffusero quasi a macchia di leopardo in svariate zone non solo della Francia ma anche della Germania e dell'Italia vediamo quindi con molta attenzione le sorti toccate a queste eresie chiamiamole le abbiamo chiamate così pauperistiche oppure se volete apostoliche quelle che vedremo stasera soprattutto la pataria e valdesi e poi quelle di Gerardo Segarelli e dei dolciniani che sono simili fra di loro ecco e poi l'eresia che così abbiamo definito un po' religiosa un po' più radicale se vogliamo che è quella dei catari ecco il il pauperismo praticamente il pauperismo è un movimento è un pensiero un filone di pensiero diciamo così che va a contrastare alcuni dei fondamenti della politica dell'epoca quindi ad esempio la ricchezza dei comuni quindi abbiamo detto la grande borghesia che si sta evolvendo parecchio nelle città appunto nei comuni va a contrastare la gerarchia ecclesiastica si intende l'alto clero la quale romana eccetera va a contrastare il potere dei re laddove c'è un re ad esempio facciamo l'esempio della Francia e va a contrastare il potere imperiale laddove c'è o dovrebbe esserci questo potere cioè ad esempio in Germania o in Italia perché ricordiamo sempre che in questo periodo l'Italia soprattutto quella del nord è teoricamente assoggettata all'imperatore di fronte a questi movimenti ereticali abbiamo non subito l'abbiamo detto ma gradualmente in maniera sempre più chiara netta e anche abbastanza devo dire la verità dobbiamo dirlo proprio crudele c'è una repressione il tutto parte da Innocenzo III un papa ierocratico cioè che vuole riaffermare il potere del sacro il potere appunto ad esempio del papa e che indice una crociata contro i catari albigesi la indice nel 1208 e di fatto inizia l'anno successivo 1209 fino almeno al 1229 quindi per 20 anni si dice così in una maniera schematica anche se in realtà la lotta contro i catari continuerà per alcuni altri decenni e poi in questo tredicesimo secolo cioè nel 1200 verrà istituito il tribunale dell'inquisizione dall'altra parte questo lo vedremo nei prossimi incontri invece abbiamo l'esempio degli ordini mendicanti come dice lo stesso nome vivono esclusivamente di elemosina quindi anche loro seguono i principi del paoperismo ma che vogliono rimanere strettamente legati al papa chiedono cercano e ottengono l'approvazione dei loro ordini dal papa lo stesso innocenzo terzo cioè Francesco andrà proprio da innocenzo terzo a chiedere una prima generica approvazione poi avrà diciamo l'approvazione definitiva dal papa successivo che se non sbaglio è onorio terzo e questo avviene quindi per i francescani avviene per i domenicani e la chiesa riconosce questi nuovi ordini e diciamo che tra virgolette sfrutta la diffusione di questi ordini proprio per contrastare anche le eresie in questo caso quindi con la predicazione e non solo con la repressione bene prima eresia di cui parliamo oggi i patarini addirittura si parla di un inizio già di questa fronda interna comunale intorno alla metà dicevamo del 1100 1045 1050 1060 è un'eresia urbana cioè è un'eresia proprio di cittadini di cittadini poveri in generale di Milano guidati dal basso clero chiamiamoli così i parroci i curati per lo più si tratta di contadini di recente inurbazione in conflitto con il vescovo e con l'aristocrazia imperiale che professano la povertà evangelica la comunione dei beni e anche gli uffici liturgici affidati ai laici quindi il ministero laicale chiamiamolo così parteciperanno tra l'altro molti patarini alla crociata dei pezzenti perché erano dei pezzenti perché la parola patarino vuol dire questo questo tipo di eresia fu repressa fu compressa chiamiamola così subito all'interno della stessa città di Milano e quindi si estinse un po' si estinse perché come abbiamo appena letto alcuni andarono poi a combattere nella crociata dei pezzenti e sappiamo già l'esito diciamo disastroso di questa crociata altri perché furono comunque diciamo oppressi o comunque messi a tacere ecco si tratta di un movimento riformatore nato in Lombardia il nome deriva forse da Patee che in milanese indica gli stracci è all'interno comunque della chiesa ufficiale questo è decisamente un movimento che diventa eretico solo ed esclusivamente per questioni politiche perché da un punto di vista religioso i patarini erano cristiani diciamo ortodossi addirittura guidati dal basso clero come ho spiegato prima uni in masse popolari in una rivolta contro i mali dell'alto clero cioè la simonia il nicolaismo che vi hanno detto un altro termine che più o meno può essere quasi sinonimo di concubinato dei preti i patarini sostenevano che i sacramenti somministrati da un sacerdote corrotto non erano validi e quindi erano anche in questo riprendevano alcune eresie invece piuttosto remote nel tempo nel 1089 Papa Urbano II sentenziò che i sacramenti impartiti da preti simoniaci e corrotti erano ugualmente validi Papa Urbano II è proprio il Papa che ha indetto la prima crociata e lui ha affermato questo ma addirittura non so se ricordate il Decameron di Boccaccio lo afferma anche Boccaccio in generale la dottrina della chiesa dice che l'importante non è diciamo l'integrità morale la coerenza morale del sacerdote ma il fatto che comunque il sacerdote è ministro di Dio anche se non è così coerente puro e perfetto nella sua vita di tutti i giorni si tratta quindi di un movimento popolare locale che si sviluppò e si concluse solo a Milano ed intorni lottava contro la simonia concubinato ci furono scontri col vescovo di Milano ma il papa in lotta con l'imperatore all'inizio li sostenne quando però poi papato impero fecero pace cominciò la persecuzione dei patari che per lo più si convinsero a lasciar perdere altrimenti quelli che erano più recidivi furono perseguitati in una maniera più decisa sappiamo bene cosa vuol dire simonia la simonia l'acquisto per mezzo di denaro di beni e funzioni spirituali ad esempio di beni ecclesiastici oppure di cariche ecclesiastiche da Simon Mago di cui si parla negli atti degli apostoli che fu colpito diciamo da Pietro seconda eresia di cui parliamo oggi quella dei valdesi veramente all'inizio di per sé non ha niente di eretico si tratta infatti del movimento religioso di origine francese fondato dal mercante valdo di Lione noto anche come i poveri di Lione i suoi seguaci facevano voto di castità vestivano di stracci pauperismo un po' come i patarini furono accusati poi però in un secondo tempo dalla chiesa di Roma cioè ad esempio nel 1179 ci fu un concilio concilio lateranense al quale parteciparono persino questi poveri di Lione e furono accettati accolti nella chiesa erano già nella chiesa i poveri di Lione come i poveri di Milano come i poveri patarini di Milano facevano riferimento al clero della città valdo chiedeva ai preti di Lione la traduzione della Bibbia la traduzione dei testi sacri nel 1179 il papa semplicemente disse a questi poveri di Lione potete continuare a sviluppare il vostro movimento evangelico a condizione però che non tentiate di fare proseliti cioè che non predichiate ma i poveri di Lione continuarono a predicare e la loro predicazione aumentò tanto che appena cinque anni dopo nel 1184 furono scomunicati e dichiarati eretici ma di per sé valdo è un personaggio che ha tanti tanti tratti in comune con San Francesco d'Assisi era un mercante che secondo alcuni nel 1173 74 75 in quegli anni abbiamo notizie diciamo la verità un pochettino vaghe su valdo di Lione decise di seguire l'insegnamento di Cristo al giovane ricco va vendi tutto quello che hai dallo ai poveri e segui Cristo seguimi dice il Vangelo nel Vangelo Cristo quindi segui Cristo vendette così tutti i suoi beni intraprendendo una vita di povertà di predicazione praticamente la stessa identica cosa che vedremo farà Francesco d'Assisi nella piazza di Assisi si spoglia di tutto lui Pietrovaldo è un mercante Francesco è figlio di un mercante quindi di fatto è un mercante anche lui diciamo dal punto di vista familiare l'esito cambierà solo per i rapporti con il Papa che saranno gradualmente sempre più conflittuali per quanto riguarda Pietrovaldo e saranno invece dopo un inizio comunque di perplessità quantomeno da parte anche del Papa saranno poi invece gradualmente più concilianti per quanto riguarda Francesco d'Assisi con i due papi con cui ebbe a che fare ecco fra i simboli valdesi dobbiamo ricordare questo della luce che poi è un simbolo evangelico cioè fa riferimento proprio ad una frase evangelica in cui si dice chiaramente che la luce di Cristo risplende nelle tenebre Gesù è la luce del mondo e questo è un simbolo che si trova ancora oggi appunto ad esempio nelle chiese valdesi i valdesi sono tra i primi a leggere la Bibbia in lingua volgare e non in latino proprio per quel discorso che vi stavo facendo prima cioè di Pietro Valdo che vuole seguire il cristianesimo vuole lasciare il commercio vuole imparare la Bibbia e chiede ai preti di Lione di tradurre la Bibbia nella lingua che però che lui conosce perché se gliel'avessero proposta in latino Pietro Valdo che era stato un mercante non era un intellettuale non era un clericus non avrebbe potuto capirla questa Bibbia quindi per questo motivo contingente in realtà i valdesi fanno un qualcosa che anticipa di secoli e secoli sia i protestanti del Cinquecento che leggeranno la Bibbia in tedesco piuttosto che nelle altre lingue dell'Europa sia i cattolici che con il concilio Vaticano II decideranno anche loro di leggere la Bibbia e di tradurla nelle lingue moderne un po' di storia quindi ricapitoliamo 1175 poi qualcuno dice qualche anno dopo qui addirittura leggo 1180 ma prima sicuramente nel 1180 perché poi abbiamo già detto nel 1179 vi ricordate il Papa accoglie i valdesi Valdo e il suo movimento evangelico poi professione di fede di Pietro Valdo cioè Pietro Valdo proprio l'anno dopo questa approvazione continua a girare per Lione e poi anche per altre zone perché poi viene anche cacciato da Lione perché a un certo punto a Lione anche i suoi amici preti che gli avevano tradotto vi ricordate quegli scritti sacri si discostano da lui e lui capisce che l'aria non è più così tanto favorevole per lui e per i suoi amici a Lione e quindi incomincia ad andare in zone più remote meno urbane anche a predicare magari di notte perché di giorno è perseguitato ecco la sua professione di fede ecco la scomunica del 1184 nel 1215 Papa Innocenzo III sempre lui adesso ci siamo collegati spero che riusciate a fare questi salti temporali importanti per capire dove collocare i vari eventi Papa Innocenzo III nel quarto concilio laterano quindi in concilio laterano precedente non ricordo se secondo il terzo i valdesi erano stati accolti nella chiesa nel quarto concilio laterano quindi sotto la guida di Papa Innocenzo III invece i valdesi furono bollati definitivamente come eretici ritenuti eretici ora la storia dei valdesi poi è piuttosto complicata lo sappiamo benissimo noi che alla fine si rifugiarono in alcune valli tra il Piemonte e la Francia in particolar modo la Valle Pelice e furono anche perseguitati già durante il Medioevo ma non così tanto a dir la verità perché riuscirono a costruirsi una sorta di nicchia in cui si proteggevano dall'esterno i problemi aumentarono con il Cinquecento con la riforma protestante nel senso che loro aderirono alla riforma calvinista i calvinisti tra l'altro erano molto diffusi sia in quelle zone sia verso la Svizzera ovviamente Ginevra lo sappiamo benissimo no? e i valdesi individuarono dei punti in comune con i calvinisti ok? però questo fu anche l'inizio di una serie di persecuzioni molto molto più violente contro i valdesi maggior parte dei valdesi che furono bruciati a rogo furono bruciati a rogo dopo la riforma protestante perché assimilati ai protestanti in un primo tempo anche nella zona in cui siano rifugiati questi valdesi furono perseguitati poi però nel 1561 Emanuele Filiberto di Savoia conferisce la libertà di culto entro però limiti geografici cioè imponendo a questi valdesi di rimanere chiusi nella loro valle e di non fare proselitismo al di fuori di quella zona di quella regione ristretta tuttavia quelli furono secoli quelli sì di guerre di religione il 500 il 600 e la testimonianza è quello che avvenne il 25 aprile ahimè purtroppo per noi è la liberazione ma per i valdesi si tratta di una data di un giorno tragico perché ricorda le pasque piemontesi del 25 aprile del 1655 quando ci fu un massacro operato dalle truppe del ducato di Savoia il re Carlo Emanuele II che evidentemente interpretando quanto facevano i valdesi come una sorta di trasgressione a quella libertà di culto che aveva assegnato loro che aveva affidato loro che aveva concesso volevo dire un secolo prima il suo predecessore Emanuele Filiberto di Savoia i valdesi furono massacrati nel 1655 poi tra il 1800 e il 1840 incomincia a cambiare anche i Savoia incominciano a cambiare sono successe parecchie cose dal 1600 all'inizio del 1800 tra le quali c'è stato l'illuminismo c'è stato il passaggio dei francesi di Napoleone eccetera tutto questo è tutta una serie di evoluzioni permise anzitutto ai valdesi di fondare un tempio quindi una chiesa cosa che non era stata concessa loro fino al 1800 un collegio un pensionato quindi di avere delle strutture nel 1848 con l'editto di pacificazione le cosiddette lettere patenti firmato da Carlo Alberto di Savoia viene finalmente eliminata la discriminazione verso i valdesi se non sbaglio un fratello di Massimo d'Azeglio si diede da fare parecchio ma anche lo stesso Cavour che era tollerante da questo punto di vista si diedero da fare parecchio affinché ci fosse questa pacificazione con i valdesi e il re che portò finalmente a questo riconoscimento fu proprio il Carlo Alberto il re Tentenna un re che dal punto di vista del risorgimento del risorgimento ha lo vedremo fra qualche lezione di storia contemporanea ha i suoi lati positivi ma anche quelli un pochettino meno positivi in realtà per i valdesi è il re che li ha riconosciuti dopodiché c'è tutta l'evoluzione del regno di Sardegna prima e del regno d'Italia e fino ad arrivare alla repubblica italiana per quanto riguarda il riconoscimento di questa chiesa valdese ad esempio nel 1920 si svolge il primo congresso evangelico nel 1962 viene approvato il pastorato femminile cioè i valdesi praticamente sono guidati da pastori perché abbiamo detto che poi si sono assimilati loro stessi ai protestanti e questo pastore che è responsabile della comunità valdese si può sposare oppure può essere anche una donna ecco qui i templi valdesi sono caratterizzati da una grande semplicità sono chiusi in assenza di persone quindi si aprono solo durante i riti che loro ufficiano che comunque non sono molto molto diversi da quelli cattolici tant'è vero che negli ultimi secoli c'è stata una sorta di riavvicinamento di riconoscimento reciproco fra la chiesa valdese e la chiesa cattolica che come abbiamo visto invece in precedenza prima si erano anche combattute ecco alcuni dei templi valdesi sia dal punto di vista dell'esterno sia dal punto di vista dell'interno come vedete richiamano un po' l'architettura anche delle chiese cristiane sono diffuse in queste zone di montagna per esempio abbiamo detto del Piemonte ecco qualche anno fa c'è stato un evento storico c'è la visita di Papa Francesco al Tempio Valdese di Torino un abbraccio una firma di documenti uno scambio di doni che ha proprio rappresentato un riavvicinamento forte tra valdesi e cattolici il Papa che si chiama Francesco probabilmente non può vedere così lontano e diverso da sé anche quell'uomo Pietro Valdo che aveva cercato di vivere in fondo fino in fondo la povertà evangelica passiamo pertanto all'ultima eresia di cui parleremo stasera quella dei catari o albigesi originaria dell'Oriente i catari e gli albigesi si possono chiamare sia in un modo sia nell'altro catari viene da cataros un termine greco che vuol dire puro mentre albigesi viene dalla città di Albi che è una delle città più importanti della Provenza che è uno dei centri fondamentali della religione appunto dei catari credevano nel dualismo divino nel senso attenzione gli studi però alle riflessioni sul pensiero dei catari sono giunti oggi a come dire sfatare o ammorbidire in gran parte questa sorta di visione dualistica questa sorta di manicheismo chiamiamolo così questa sorta di quasi non dico zoroastrismo ma comunque divisione di due divinità che si contrappongono l'una all'altra gli ultimi studi portano a ritenere i catari semmai un'eresia ma cristiana cioè di cristiani che anzitutto credono in Cristo dicono che lui è il puro per eccellenza e il dio quindi non ha natura umana ma è proprio lui il principio del bene che non solo si contrappone al diavolo ma in generale lo può e lo deve vincere no? comunque i catari erano asceti quelli più radicali perché c'erano molti catari che non arrivavano a certi eccessi ma quelli più radicali rifiutavano ogni bene materiale rifiutavano il sesso rifiutavano il cibo perché erano fortemente avversi al corpo e a tutto ciò che era materiale però ripeto questo è veramente riguarda solo alcuni catari non tutti ecco si parla tanto di suicidio dei catari in realtà di che cosa a che cosa di cosa stiamo parlando stiamo parlando di questi catari abbiamo detto molto molto radicali che disprezzavano talmente il corpo da non cibarsi fino a morire di inedia dal momento che era la loro convinzione si trattava infatti di teorie sicuramente molto esoteriche cioè finalizzate a quella che era la salvezza personale della persona i catari così radicali erano contenti anche di morire perché sicuri dal momento che erano puri che si erano astenuti da tutto ciò che era materiale sicuri di essere salvi dopo dopo la morte i catari avevano una loro gerarchia quindi c'erano effettivamente dei sacerdoti ma tutto sommato l'abbiamo già detto i catari man mano che gli studi sono avanzati l'abbiamo visto in maniera sempre più chiara si ritenevano cristiani come gli altri con qualche differenza anzi loro volevano diffondere queste teorie perché erano convinti di questo di essere loro cristiani che interpretavano più puramente più correttamente la dottrina evangelica volevano imporsi alla chiesa cattolica ufficiale volevano quindi sostituire alla gerarchia cattolica una loro gerarchia sin dall'undicesimo secolo si erano diffusi i catari incominciano ad esistere adesso lo vedremo parleremo delle origini di questa teoria sin dall'anno 1000 però non nella zona appunto della Provenza poi arrivano in Provenza e si diffondono tra la fine dell'anno 1000 e gli inizi del 1100 in una di quelle fasi più importanti della storia della Provenza quando la Provenza era al centro della cultura europea quando i poeti più importanti più famosi e più bravi dell'epoca erano provenzali quando i signori della Provenza erano potenti e quindi fronteggiavano i signori dell'Ile de France cioè della lingua d'Oil quando la lingua d'Oil aveva una dignità almeno paragonabile a quella d'Oil ecco questi catari reclamavano da parte degli ecclesiastici una vita più povera meno legata al potere volevano riformare la chiesa come tanti movimenti ereticali di cui abbiamo parlato questa volta è la volta scorsa volevano privilegiare lo spirito rispetto alla carne giustificavano la lotta contro la ricchezza della chiesa con una dottrina secondo la quale è bene ciò che è spirituale ed è male ciò che è materiale quindi ciò che è materiale è del diavolo ciò che è spirituale è di Cristo predicavano la loro dottrina diffusero parecchio la loro dottrina non solo in Provenza ma anche in tantissime altre zone dell'Europa questa dottrina catara andiamo agli origini dicevamo riprendeva il bogomilismo una setta cristiana medievale proprio a cavallo dell'anno 1000 chiamiamola così di tendenza dualistica diffusa nel decimo secolo quindi nel novecento addirittura nei Balcani nella penisola balcanica prima in traccia successivamente in Bulgaria che divenne un po' il centro di questo bogomilismo poi in Serbia e in Bosnia la parola bogumil in antico bulgaro significava caro addio i catari detti anche abigesi appunto dalla cittadina francese di Albi come detto prima predicavano il rinnovamento morale quindi probabilmente abbiamo detto riprendendo questo bogomilismo basandosi sul dualismo fra bene e male principi personificati rispettivamente dal dio del nuovo testamento cioè personificato il bene da Cristo un Cristo Dio un Cristo non di natura umana ma solo di natura divina anche qua la dottrina orientale di cui abbiamo parlato la volta scorsa vi ricordate del monofisismo mentre il principio del male era personificato da Satana e questo comunque diciamo in analogia con quanto pensavano anche tutti gli altri cristiani Satana era considerato il creatore del mondo materiale egli aveva inoltre intrappolato nei corpi degli uomini gli angeli da lui sedotti i cateri rifiutavano i beni materiali e accusavano la chiesa di immoralità corruzione intesa col demonio ma come stavamo spiegando prima certe tendenze neoplatoniche addirittura agostiniane non eretiche anzi perfettamente ortodosse all'interno del cristianesimo parlavano esplicitamente di questo male del corpo del corpo come una sorta di prigione dal quale ci si libera dopo la morte ecco qui vedete un'altra cartina che vi spiego ancora meglio come si sia diffuso il catarismo non solo in Provenza ma in tantissime città la città di Carcassonne che poi verrà assediata la città di Béziers anche questa assediata e tutti quanti i cittadini trucidati la città di Albi ma anche in tante altre città addirittura della Francia settentrionale come Orléans la città della nostra pulzella di Orléans cioè di Giovanna d'Arco oppure città delle Fiandre oppure città addirittura della Germania come Colonia Fiandre Liegi Germania Colonia e tante zone dell'Italia centro settentrionale cioè c'erano comunità catere anche a Concorezzo di Concorezzo o di Desenzano o di Mantone quindi diciamo tra Lombardia poi Desenzano sul Garda Lombardia il Veneto l'Emilia Romagna la Toscana e addirittura L'Umbria Spoleto quindi Lazio Viterbo c'erano sono testimoniate delle comunità di Catari all'inizio la Chiesa cercò di arginare la diffusione delle idee catere con la predicazione quando Nocenzo III però comprese che così non avrebbe risolto il problema poiché comunque il catarismo come abbiamo visto prima con questa cartina si è diffuso tantissimo si era diffuso tantissimo indisse bandì la crociata contro gli albigesi la volta prossima parleremo della quarta crociata c'è sempre di mezzo lui Innocenzo III qualche anno prima ma è una crociata che teoricamente doveva essere contro gli infedeli musulmani anche se poi anche questa crociata di fatto si indirizzò verso e contro i bizantini costantinopolitani ma addirittura nel 1208 lui indice una crociata contro altri cristiani è la prima così ecco perché viene chiamata la crociata degli albigesi cioè il papa Innocenzo III dice ai soldati e a tutti quelli che vorranno combattere contro gli albigesi che se moriranno in questa crociata andranno dritti in paradiso come quando andavano i soldati cristiani a combattere le loro crociate in Medio Oriente di fatto questa crociata assunse la forma di un vero e proprio genocidio genocidio della popolazione di un popolo dei provenzali dei cittadini di Béziers dove addirittura questi crociati quando arrivarono arrivarono al punto di decidere se sterminare tutti gli abitanti di Béziers oppure cercare solo i catari e uccidere solamente i catari ebbene questi signori questi potenti crociati dissero ai loro soldati di ammazzarli tutti quanti perché poi comunque ci sarebbe stato Dio e la giustizia divina dopo la morte a poter distinguere quelli che erano eletti quindi perché magari cristiani ortodossi e quelli che invece erano eretici pensate a che punto si era arrivati con questo episodio famosissimo di Béziers che cosa intendo dire quindi intendo dire che per un secolo almeno in quella zona in Provenza i catari avevano costituito una percentuale non molto elevata della popolazione circa un 5% della popolazione tuttavia è vero che si era creata una convivenza con i cattolici chiamiamoli ortodossi non eretici ecco che però quando viene indetta questa crociata si incrudelisce la repressione non solo contro i catari ma anche contro i loro concittadini che li hanno protetti che li hanno difesi e quindi in questo modo si giustifica anche lo sterminio di tutti gli altri concittadini cioè quelli che abitavano nella stessa città dei catari perché avevano difeso e protetto i catari perché non avevano fatto nulla per impedire la diffusione di questa eresia abbiamo detto che storicamente parlando genericamente parlando questa crociata durò vent'anni indetta nel 1208 di fatto ora che si sono organizzati iniziata nel 1209 terminata nel 1229 ma in realtà ebbe degli strascichi che si protrassero fino al 1244 con la caduta della roccaforte catara di Montségur cioè alcuni catari riuscirono a scappare a rifugiarsi dentro delle roccaforti e a resistere all'arrivo dei crociati ancora per parecchi decenni ecco una famosissima diciamo oh mamma mia non mi viene il termine di quelle di quelle raffigurazioni pittoriche che spesso ah sì le miniature questa miniatura qua sono delle diciamo così delle raffigurazioni pittoriche che si trovano all'interno di libri o codici no questa miniatura famosissima rappresenta proprio l'assedio di Carcassonne un'altra città diciamo della Provenza Catara eccetera assediata dai crociati i quali poi fecero prigionieri e poi uccisero trucidarono e massacrarono tutti gli abitanti un po' come a Bézier no eccolo qua la roccaforte di Montségur una fotografia di questa roccaforte bellissima tra l'altro già da questa foto potete capire il motivo per cui è stato l'ultimo posto in cui i catari sono riusciti a difendersi a proteggersi perché era talmente arroccata su un cucuzzolo di una montagna che era davvero difficile da assediare ecco la repressione non terminò comunque nel 1229 anche perché proprio qualche anno dopo tra il 1231 e il 1232 nacque l'inquisizione medievale sì è vero era stato istituito il tribunale dell'inquisizione già nel 1184 ricordate l'anno in cui ad esempio erano stati considerati eretici i valdesi ma si dovette aspettare appunto gli anni 30 del 1200 perché di fatto incominciasse ad entrare a regime il tribunale dell'inquisizione spesso facevano parte del tribunale dell'inquisizione dei dominicani poi in seguito anche dei francescani in qualità di inquisitori generalmente non usavano violenza tranne per estorcere delle confessioni con la tortura questo era ammesso ma non potevano ad esempio eseguire delle condanne a morte perché poi un eventuale eretico doveva essere affidato a un tribunale civile laico perché ci fosse una condanna a morte ecco vedete dal 1252 fu autorizzato l'uso della tortura chi veniva riconosciuto eretico poteva convertirsi ricevere pene solo spirituali o non convertirsi in questo caso poteva essere condannato alla prigione oppure anche si arrivava al rogo nella pratica però soprattutto nell'inquisizione medievale la tortura e il rogo si applicarono raramente furono applicate in maniera più estesa nell'inquisizione spagnola e in generale nell'inquisizione del seicento del cinquecento seicento le pene potevano anche semplicemente consistere in digiuni pellegrinaggi però si poteva arrivare abbiamo detto fino a pene fisiche o anche alla morte la chiesa evidentemente aveva intravisto in questa eresia un pericolo che metteva in discussione quelle che erano capisaldi le colonne insomma della struttura sia diciamo della chiesa stessa sia della società del tempo bene io terminerei così di Gerardo Segarelli e di Fradolcino parleremo quando arriveremo al 1300 perché si tratta di eretici del 1300 pertanto andiamo a ingrandire su youtube facebook e anche su yellow duck che sto usando anche se non so se voi di instagram riuscite a vedermi su yellow duck ingrandisco il mio faccione e vado a leggere i commenti che sono stati iscritti su youtube per rispondere si è vero si sentono le rondini benissimo diciamo che regime e governo sono abbastanza dei sinonimi anche se ovviamente la parola regime ha una connotazione decisamente più negativa rispetto alla parola governo che è più neutrale salvatore branciforti a salvatore dispiace di non poter seguire la diretta ma non solo tu la potrai vedere dopo ma tante altre persone potranno vederla dopo un salutone a te quindi salvatore ad agata amato ad antonella baroni a little melvin che ci hanno seguito su youtube ecco il nostro little melvin si ricorda di quovadis ma come dire quovadis è un romanzo di un polacco Sienkiewicz che riguarda invece il periodo in cui i cristiani erano perseguitati non perseguitavano altri cristiani ecco mi fa una domanda sempre little melvin riguardo la parola curia ho già spiegato più e più volte la parola curia è una parola di origine romana e indicava nella storia romana esattamente il senato il luogo in cui si riunivano i senatori ma come tante altre parole della lingua greca e della lingua romana fu poi utilizzata dalla semantica cristiana cioè intendo dire dai cristiani con un significato diverso quali furono i contenuti della regola adottati dall'ordine domenicano lo spiegheremo in uno dei prossimi incontri quo vadis vuol dire dove vai in che lingua quo vadis vuol dire dove vai in latino c'è anche una barzelletta su questo poi anche dell'ordine francescano parleremo delle prossime volte quali furono i motivi che provocarono la spaccatura all'interno dell'ordine dei francescani questo assolutamente ne parleremo una delle prossime volte ne abbiamo già parlato comunque quando abbiamo commentato alcuni canti della divina commedia e a quel punto abbiamo parlato appunto di questa divisione fra i francescani detti gaudenti insomma un pochettino più lassisti e i francescani invece più rigorosi valdo essendo un eretico non fu arrestato e processato dalla gerarchia e chiesiastica fu ricercato ecco poi morì all'inizio del 1200 ma non credo che sia morto ecco perché raggiunto o imprigionato eccetera assolutamente no però effettivamente fu ricercato sì questa live è da ascoltare e riascoltare perché l'ho preparata da settimane per non dire da mesi molto molto bene e quindi le informazioni che vi ho dato sono preziosissime durante il diffondersi del caterismo quali furono gli strumenti che la chiesa utilizzò sul piano pratico e su quello dottrinale beh sul piano pratico ahimè diciamo che gli strumenti furono quelli delle armi ecco su quello dottrinale utilizzarono soprattutto i frati domenicani appena nati i frati domenicani subito ebbero un ruolo fondamentale nella predicazione anticatara ho già detto che parleremo delle correnti dei francescani in un'altra occasione poi delle università abbiamo già parlato in una live sulla rinascita delle città dopo l'anno 1000 ma ne parleremo ancora non ti preoccupare la quarta crociata quella di Costantinopoli è detta crociata no la quarta crociata è detta crociata dei veneziani mentre questa degli albigesi non rientra nel computo delle crociate medio orientali chiamiamoli così è una crociata a parte è completamente diversa dalle altre anche se solo e semplicemente per il fatto che il target il bersaglio insomma sono proprio altri cristiani e non la terra santa il sepolcro eccetera sì si sentiva un rumore che però in realtà era il rumore della mia fotocopiatrice più che di una pellicola cinematografica sì è vero è stata una diretta molto complessa ma una diretta che ci ha insegnato delle cose della nostra cultura della nostra storia molto molto importante ah Little Melvin dice ma magari potresti fare qualche qualche diretta su Dante si può fare si può pensarla no ovviamente noi abbiamo commentato almeno la metà dei canti della Divina Commedia e possiamo pensare di commentare anche l'altra metà col tempo no bene è arrivato il momento pertanto di terminare lo streaming su YouTube salutare Little Melvin e tutti gli altri amici che ci hanno seguito come Maurizio Lazzarini Lazzarini per esempio no su YouTube e tutti gli altri che ho citato prima Salvatore Antonella Agata e salvare la nostra live su YouTube e così salvarla anche su Facebook che Grazie a tutti.